Veneto 1 con voi, eventi in agenda. Ben ritrovati sui 97.500 di Radio Veneto 1, Veneto 1 con voi, ben ritrovati anche a chi ci sta seguendo sui nostri canali social e sul nostro canale video veneto1.it. Seconda parte dello speciale con Giampaolo Manca, veneziano, 64 anni, 36 dei quali trascorsi in carcere, esponente di spicco della mala del Brenta. All'inferno e ritorno è il libro, uno dei quattro che Giampaolo Manca ha scritto in carcere ed è uno dei successi editoriali, dei casi editoriali di quest'anno. È un'autobiografia dove Giampaolo Manca racconta insomma parte della sua vita criminale. Buongiorno Giampaolo che è qui con noi e ben ritrovato. Grazie, grazie che io sono ospite di lei e mi ha dato questa opportunità di parlarci. Senta, a fianco al suo nome nel libro c'è scritto Ex componenti di spicco della mala del Brenta. Nella prima parte ci ha raccontato di quando e come ha conosciuto quello che era il capo in discorso della mala del Brenta, ovvero Felice Maniero. Lei Felice Maniero lo ha conosciuto fuori dal carcere, nei locali della Riviera, poi i primi colpi in qualche modo assieme, ma l'ha conosciuto anche in carcere. Ma com'era Felice Maniero in carcere? Guardi, in carcere io l'ho incontrato quando nel 73 fui accusato di violenza carnale nei riguardi di due ragazze svedesi. C'era lui, Pacagnea, di cognome, e un altro ragazzo che mi sfugge. E quindi è un dato di fatto, c'è una sentenza, quindi non vorrei mai che si pensasse che io dico questo. Lei sa la storia molto bene, quindi però lui fu arrestato per questo fatto. E iniziai a conoscerlo lì, non le nascondo che l'accusa era di quelli infamanti, diciamolo francamente, violenza sessuale, quindi lui ce l'ha quella cosa, lui lo sa. E quindi, niente di che. Senta, prima che arrivasse Felice Maniero e la mala del Brenta, per come si conosce, a Venezia, a Venezia comandavate voi, comandavano i veneziani, a maestre comandavano i mestrini. E una delle attività più redditizie in centro storico era quella che gravitava in qualche modo attorno al casino. Quanto vi fruttava questa attività criminale ogni giorno? Guardi, ogni giorno, noi comandavamo circa 48 miliardi all'anno. Quindi voi davate i soldi a chi gli spendeva tutti al casino, il casino non gli dava più credito, veniva fuori e vi faceva l'assegno e voi davate i contanti. Funzionava così, quando l'imprenditore aveva ricevuto dal casino delle cifre importanti, però c'era un tetto, quindi diciamolo francamente, eravamo soci occulti del casino di Venezia, perché quello è un dato di fatto. E quindi indicavano gli imprenditori di venire giù da noi e noi lì avevamo valigie piene di soldi, perché è la verità. E quindi davamo i soldi a queste persone e dunque se lei chiedeva 200 milioni, io le chiedevo i 200 milioni più i 20 milioni, quella famosa tra virgolette cagnotta, che veniva all'incasso il giorno dopo. Certo, non era proprio il giorno dopo, perché ci vengono 3-4 giorni, però comunque sia... Ma voi incassavate il 10% dopo 24 ore? Esattamente, perché noi avevamo poi chi scontava gli assegni e ci dava subito la... monetizzavamo subito l'assegno, lasciavamo un 2%, qualcosa più o meno così, a chi ci cambiava l'assegno e quindi vedevamo subito il nostro guadagno e in più avevamo l'importo per investire il giorno dopo, la notte, diciamo dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte. Ma che imprenditori c'erano? A Venezia sono passati tutti, tutti... mi consentano, voglio dire i nomi però veramente... Lei un nome lo scrive, non di un imprenditore ma di una persona molto famosa, Mario Merola, lo scrive nel film? Ma sì, 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 lo scrive nel libro? Sì, certo, Mario quella volta... eh caspita, voglio, tengo bisogno di 20 milioni, gli do questi 20 milioni, mi fa il check, mi fa l'assegno e poi così sbadatamente si dimenticò di coprirlo. Però avevamo delle amicizie in comune, quindi quei soldi lì poi li abbiamo recuperati. Ma se qualcuno non copriva l'assegno cosa succedeva? E volevamo i soldi, perché io ti davo i soldi comunque sia e quindi dovevi restituirmi i miei soldi. Ed era pacifico questo perché tu vieni da me... E li hanno sempre restituiti tutti? Sì, in gran parte sì, non ci sono state delle grosse perdite. No, no, no. Poi a un certo punto lei dice quasi 50 miliardi all'anno, no? Sì, circa 48, 48. A quei tempi era... Una cifra mostruosa. Una grande azienda, insomma. Certo, certo. E succede qualcosa una notte, lei non c'era perché qualcuno le fa sapere non andare là, la notte dei cambisti, no? Sì. Che cosa succede? Succede questo, che Bogo, Paolo, che diciamo francamente, io l'ho scritto nel libro, ha aperto le porte a quelle della riviera. A Felice Maniero. Certamente. E a lui è Sandro. Se vogliamo dirla tutta è stato Sandro qua, il Radetic. Conoscendoci, lui si era avvicinato a Campolongo Maggiore perché Sandro è stato anche un rapinatore di livello e iniziò a frequentare di più Felice e Company e quindi nulla. Con Bogo c'era un'amicizia per il legame che ci fu con Silvano e Felice per la famosa evasione eccetera eccetera. E quindi era una sorta di, dai tu eri con Silvano, io Silvano l'ho aiutato, dai vediamo di fare qualche affare insieme. E così, Bogo. Ma lei non era nella forza di, in qualche modo, di impedire che Felice Maniero con i suoi arrivassero in centro storico? Ma guardi, sinceramente, io quando Bogo è uscito, dopo 8-9 anni di carcere, lo feci entrare immediatamente in società con me, con il cambio degli assegni ed altre cose. Io l'ho vista come, anche lì, una specie di tradimento perché non me la sarei mai aspettata da Paolo questa cosa. Però Paolo, dopo tutti quegli anni allo speciale, anche lui era cambiato. Si era un po' mafiosizzato, ecco, il termine è più esatto. E anche lui, questo modo di pensare, non più da veneziano, ma avendo conosciuto determinate persone, gli speciali, insomma aveva letto il padrino anche lui. Senta, c'è un capitolo che, nel suo libro, che è il capitolo fondamentale, anche il più lungo, e si intitola Senza Scrupoli. Voi eravate dei ragazzi senza scrupoli? Sì, certamente, certamente avevamo perso il lume della ragione. Troppi soldi, troppi soldi e non capisci più niente. 50 miliardi all'anno per il casino, e dobbiamo ancora parlare della droga. Miliardi e miliardi per le rapine. Hai mai fatto un conto ipotetico di quanti soldi lei ha guadagnato facendo il criminale? Molti. Molti. Senta, arriva l'eroina, l'eroina che permette un guadagno esponenziale, soprattutto nel momento in cui vengono rivestiti anche i proventi criminali. Voi da chi andavate a rifornirvi di eroina? Bella domanda, però io non glielo dico. Come sa, abbiamo parlato prima del tradimento, mi perdoni, ma questa cosa non posso dirla. Il traffico di eroina ha comunque significato anche un avvicinamento tra lei e Felice Maniero? Nel senso che l'ho gestivata insieme? Tutto nasce così che, Radetic, sapendo che io, voglio fare una premessa però lei me lo consenta perché è giusto dirlo, io credo che, io ho molti rimorsi, tantissimi, per ciò che è accaduto nella mia vita, però voglio ribadire qui oggi, come lo dico spesso nelle altre interviste, io credo che è stata la cosa peggiore che posso aver fatto nella mia vita, non che ammazzare la gente non lo sia, però, come prima parlavamo, è stata attaccata la parte più debole della gioventù. Voi col traffico di eroina facevate morire tanti giovani e mandavate anche in crisi e sull'astrico intere famiglie, perché un tossicodipendente in casa è una cosa devastante e qua non eravate più Robin Hood? No, 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 i Robin Hood un tempo erano spariti, erano morti, qui c'era solo il voler sempre di più, sempre di più, non ti guardavi indietro e chi ne andava di mezzo erano questi poveri ragazzi che appunto usavano questa cosa maledetta e noi siamo stati dei vigliacchi, di, dico la parola proprio, degli infami. Senta, a proposito dell'eroina, si è molto parlato dei rapporti tra i cartelli del Sud America e Cosa Nostra, la mafia tradizionale in Italia. Aveva lei rapporti con esponenti della mafia oppure trafficanti di cartelli sudamericani? Anche qui non voglio rispondere, mi scusi ma... Senta, Maniero le chiese anche di organizzare la sua evasione e in cambio di 20 chili di eroina che tagliata avrebbero fruttato 8 miliardi. Maniero di lei si fidava in qualche modo? Beh, certamente. Avevamo degli affari in comune e quindi mi mandò a dire, guarda Gianpaolo, tramite Giulio e il cugino, fate questa operazione e mettiamo sulla cassa 20 chili di eroina, pura, e come ha detto lei poi diventava appunto una cosa esponenziale con il taglio perché poi la purezza era pura, il 78%, quindi non potevi certo di metterla nel mercato con quella potenzialità, uccidevi tutti. E quindi i conti fatti erano 8 miliardi per cosa? Noi la vedevamo con una rapina, né più né meno. È l'unico favore che gli ha chiesto Maniero questo? No, ma gli ha chiesto anche degli altri. Quali? Non lo dico. Senta, a un certo punto Felice Maniero si fida talmente tanto di lei o forse capisce che lei può essere un socio importante nell'attività criminale che gli dice Gianpaolo Manca, Venezia è tua. Però lei non ha voluto, da come la conosco io, mai essere un luogotonente di Felice Maniero, ma perché? No, guardi, allora, una volta per tutte, va bene, c'è la sentenza che dice che lui era il capo, eccetera, eccetera, però i giudici possono sbagliare. Dunque, guardi, è giusto che lo dica, Felice non era capo di nessuno, era capo forse di quei sette ragazzi, otto che aveva a Campolongo Maggiore, guardi, devo dirlo, ma la verità, lui ha sfruttato quei ragazzi là, perché quando lui faceva le parti di quelli importanti, quando dava 50, 100 milioni, avrebbe dovuto dare i 300, i 400, i 500, questi si accontentavano, poteva mai farlo con noi? Impossibile. Se c'erano 5 miliardi a spartire, ognuno aveva la sua fetta, la sua percentuale, quindi, e quando allora sento dire che Felice era il nostro capo? No, un attimo, signori, era un nostro complice. Certo, la magistratura dice questo, però, vede, io avrei molte cose da dire, però, nella mia posizione attuale, lei sa, io sono in affinamento in provi, servizi sociali, non è il caso, però io quando avrò la possibilità di dirlo, e le prometto che lo dirò a lei, lo dirò a lei, io gli spiego come sono andati i fatti, e sono certo che lei è una persona molto onesta, perché diciamolo francamente, dei giornalisti ci hanno marciato sopra, e dovevano per forza di cose tenere una certa linea, e quindi la verità, quella vera, non è stata detta. Allora, un'altra cosa importantissima, magari uno dirà, eh ma tu dici questo, perché Felice ti è accusato di questo e quello, no, 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 io oggi di maniera non me ne frega più nulla, assolutamente. Io dico anche come padre, mio figlio è qui con me, lui ha avuto una tragedia in mani a casa, è morta sua figlia, e quindi non dico che è stato il castigo peggiore, no, nemmeno questo, quindi lui ha pagato amaramente la sua scelta di vita, però come le dicevo, Felice non era il capo di nulla, lui era uno dei tanti, che però c'è stata una collisione, collisione, come mi insegni lei, tra magistratura, collusione tra magistratura e maniero, che quando è stato arrestato a Torino, Felice gli è stato proposto, va bene, non prendi l'argastro, ti facciamo dare 30 anni, e Felice ha detto, 30 anni, ma non esiste proprio, ecco mi creda, mi creda, come nasce la mafia del Brenta, quando intendo il 416 bis, che poi fossimo dei trafficanti, io sono il primo a dire, eravamo dei trafficanti, vedevo meglio un bel, tra virgolette, 74, sulla legge dei stupefacenti, cioè eravamo un'organizzazione dedita al traffico, e lì io non dico nulla, però dire che eravamo dei mafiosi, e purtroppo, per dare i benefici a Felice Maniero, hanno applicato quelli attenuanti speciali di collaboratori, che per i reati che contemplavano l'argastro, con quelli attenuanti, Felice ha preso 10-11 anni, per vari, vari omicidi. Senta, Giampaolo, Maniero uccide chi si ribella, dei suoi, della sua banda, no? 1990, triplice omicidio sull'argine del Brenta, fratelli Rizzi e Padovan, lei è comaniero, e lei è complice di quel triplice omicidio, che cosa accadde sull'argine del Brenta? Guardi, è sempre difficile ricordare, perché mi fa male, oltretutto poi, tra di loro c'era mio carissimo amico, e quindi mi sono trovato che si doveva farlo. Perché i rizi erano comunque giudecchini, ma erano veneziani come lei? Certamente, certamente. Io quando parlo nel libro, i ragazzi, io parlo anche di loro, e quindi, quindi, eravamo amici, eravamo amici, però accade una cosa, che ho scritto nel libro, appunto, per la rapina del Celsio, che uno di loro ci abbandonò, e quindi, è una cosa gravissima, non grava, gravissima, e quindi, ecco da dove nasce il tutto. Allora, quando sento dire, perché vogliono prendere la zona, Venezia è mia, non è vero nulla, non è vero nulla, io l'ho vissuta, se vuole la gente mi crede, ma il tutto è nato dalla rapina del Celsio. Perché? Perché io appena ero in carcere, e pensavo che fosse scappata una persona, invece era scappata la persona che si pensava la più forte, la più dura, la più cattiva, di uno di loro. E da lì nasce questo conflitto, che poi è nato, cioè è sfociato, sappiamo purtroppo, oggi dico purtroppo, perché sta una terzeda per tutti. Ma lei ha mai avuto paura o timore di fare la stessa fine di Rizzi, così come di Sandro Raditic, di Stefano Carraro, di Zeno Bertin, dei tanti in quella famosa foto al matrimonio di Richitina davanti alla chiesa di Campolongo? Ma guardi, io, ma paura no, però, però c'è stato un momento, io l'ho scritto nel libro, quando stavamo organizzando la rapina, quella tragica rapina al treno, dove morì quella povera ragazza, la Cristina Pavesi, e quindi stavamo organizzando, appunto, quell'assalto, quel treno, e dissi a Felice, guarda, c'è anche un altro treno dove trasportano dei soldi, però la cifra non era di quelle mostruose, 5-6 miliardi, 7 miliardi, non di più, invece l'altro treno che andava a Torino, era stracolmo di oro, io ho fatto un sopralluogo, ero dentro di quel treno, io ho visto i scatoloni pieni d'oro, quindi io ho toccato con mano, e poi parlè, e gli ho detto, sai che ci sarebbe quel treno, però non vale la pena, gli ho detto, andiamo a prenderci 30-40 miliardi, e cosa accade? Accade che invece la rapina fu fatta, ma non quella del treno dell'oro, ma bensì la rapina dei 6-7 miliardi, che poi purtroppo, lo ribadisco, c'è stato quel disastro, morì la povera ragazza, molto giovane, molti feriti, e che ancora oggi portano quelle ferite, io non lo sapevo bene, poi la signora Pavesi mi ha spiegato tutto, perché è sempre in contatto con le vittime, eccetera, eccetera, e quindi anche lì altre tragedie. Lì ho capito che era un mondo maledetto, era un mondo maledetto, fatto di tradimenti, guardi, vigeva solo il denaro, e basta. C'è stata anche la sua fuga in Sud America, per un periodo, prima dell'ultimo arresto, certo, ma da chi era protetto in Sud America, se lo puoi dire? Poi è partito così allo sbando. No, 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 beh, certo no. Sud America dove? Ero a Montevideo, 7 km a Montevideo. No, non ero protetto, ma eravamo degli amici, e quindi ebbi l'occasione di acquistare questa fazenda, siamo rimasti, no, anzi, io non sono rimasto molto, perché poi giravo per l'Europa, eccetera, per le mie cose, i miei affari, tra virgolette, però lì rimase mio figlio, mia moglie, mio suocero e anche il nostro cane. E però, cosa accade? Cioè appunto, io sono andato lì tramite degli amici di Milano, con un volo privato, eccetera, eccetera, però poi mi arriva una telefonata da mio fratello Fabio, che mia mamma stava per morire, e decisi quindi di partire. E ho detto, io vado dalla mamma, non esiste che mia madre disgraziatamente muoia, non mi vede, ed ecco, come torno in Italia, per arrivare in Argentina, mille problemi. Poi lì in Argentina avevo degli amici, e da lì, poi sono arrivato di nuovo a Milano, e da Milano sono arrivato a Venezia, c'era il carnevale, se non erro, sì, sì, bravo, sì, e quindi per sfuggire alle forze dell'ordine, non potevo certamente dar la faccia, in maschera, ero in maschera, e così vado dalla mamma, e quindi... E quella è stata l'ultima volta che ha visto sua mamma? No, no, poi, ringraziando Dio, mia madre non morì, si ristabilì, e poi, cosa accade? quindi quando vedo mia mamma che si è un po' ristabilita, dico a mio fratello, ti raccomando, ce l'hai tu a carico, e quindi parto per Milano per prendere quel famoso volo che avevo preso prima per andare a Montevideo. Vado dagli amici di Milano, e... un giorno o due, vengono in quella casa dove ero ospite, e mi dicono, guarda, sei nei telegiornali, canale 5, eccetera, ti stanno in colpado della rapina al treno. L'uomo del bazooka. Esattamente, bravissimo, bravo, e lì, lì, dico, come? Mi stanno accusando, io sapevo di essere innocente, però c'era sta convinzione che fossi io, a tutti i costi, addirittura il capo, come scrivo sul libro, ma è spiatorio in questo caso qua, comunque sia, mi voglio fare la plastica facciale, ma non era facile, sai, cambiare identità, ma poi, poteva esserci anche un problema psicologico, no, decisi, io avevo un naso aquilino, come Dante Alighieri, e mi sono un po' camuffato, ecco, quantomeno mi sono tolto la gobba che avevo, e niente, sono stato operato, ero alla clinica Santa Rita di Milano, sì, dove ci fu quel tragico episodio, si ricorda? Sì, quella cosa iperbarica, morì 5, 4, 5 persone morirono, carbonizzate, insomma, mi hanno operato lì, eccetera, eccetera, e poi, e poi cosa è accaduto? È accaduto che, eh, ero ospite della, la sorella di un certo, di un amico nostro, un certo Beniamino Rossetti, prima con trabandiere, poi rapinatori di razza, io l'ho contatto, gli dico, devo andare, perché i ragazzi di Milano, mi dice, Gian Paolo qui, la faccenda si fa scottante, anche noi abbiamo i nostri problemi, quindi, tu saresti un problema in più, ma non è che mi abbiano mandato via, no, però era doveroso che io andassi via, insomma, dai, erano i miei problemi, loro avevano già i loro, alla fine, arrivano i Ross da Venezia, guarda caso, da Venezia, senta, 27 marzo 1992, il momento, dell'arresto, esattamente, lei finisce in carcere, sì, con la convinzione, probabilmente, di non uscire più, mai più, certo, trascorre 20 anni, in interrotti di carcere, a un certo punto, prima dell'appello, per l'ennesimo processo, lei fa una richiesta, drammatica, al giudice, che cosa chiede? dunque, allora, a conti fatti, avevo già scontato circa 34 anni, e pur vero che, non è che io ho fatto 34 anni, ininterrottamente, però comunque, si, li ho scontati, quindi io vado all'appello, che avevo già scontato, sì, 33 e qualcosa, ero stanco, non ce la facevo più, forse anche un po' di forzatura, però ho detto, no, basta, chiese al presidente della corte di appello, presidente, gentilmente, addirittura questa parola, gentilmente, faccio un'ordinanza, mi faccia fare una puntura, io voglio morire, chiuso, chiudiamo la storia, chi si è visto, si è visto, il presidente mi ha guardato, disse, lei è pazzo, però, sa, ho avuto un complice quella volta, il procuratore generale, e disse, testa e parole, dice, io a manca voglio dargli un'altra opportunità, e così avvenne, dopo, si riunirono in camera di consiglio, e mi concessero, di andare agli arresti omiciliari, presso una comunità, la Papa Giovanni XXIII, a Monte Colombo, quindi provincia di Rimini, sì, sì, e diciamo che da lì, già c'era un mio percorso interno, c'è dentro di me, c'era qualcosa, stava cambiando qualcosa, e andando in questa comunità, mi è cambiata la vita. Senta, la vita quindi non li ha cambiata il carcere, non li ha cambiata la comunità. Guardi, allora, ho detto molte volte, se tu vivi nel male, produci male, e quindi, nel male assoluto, però quando tu vivi nel bene, tu impari a fare del bene, e ti entra dentro quel bene, e ti entra dentro. Ammesso che abbia senso una classifica del male, qual è la cosa più atroce, che lei ha commesso, da criminale? Ma oggi lo ribadisco, l'ho detto anche prima, io secondo me, la cosa più brutta, non che le altre siano state belle, ma il commercio dell'eroina, io ho dentro questo rimorso che, è difficile da togliersi, abbiamo fatto dei danni, irrimediabili. Senta, lei, come Felice Maniero, ha un tesoro da qualche parte? No, io non so più nulla, io avevo molti soldi, però non glielo voglio dire, perché nel secondo libro, spiegherò, di quei soldi. Dove li ha spesi? Non sono stati spesi, ma mi permetta, non posso dirlo, lei mi capisce. Senta, adesso, Gian Paolo Manca, che uomo è? Gian Paolo Manca, è chi è? È una persona consapevole, di tutto il male che ha prodotto, in parte cerco di recuperare, cioè di risanare, ma so che è impossibile, e quindi, oggi, cerco di insegnare i ragazzi, che le strade non sono certamente, quelle che abbiamo percorso noi, noi tutti, nessuno escluso, e con la mia esperienza, con i messaggi che lancio sempre, io vado nelle scuole, vado nelle chiese, vado a parlare con questi ragazzi giovani, di licea, e anche delle medie, e cerco di fargli capire, che appunto, per arrivare nella vita, non può assolutamente, calpestare tutto e tutti, e quindi cerco di riparare in questo modo, ribadisco, so che, quello che è accaduto, è indicibile, io sento questa cosa dentro di me, io vivo per questo, e il suo futuro come se lo immagina? Il mio futuro, io ho un sogno, di far nascere questa struttura, è un tipo di casa famiglia, dove da noi verranno, delle mamme, coi bambini, in disagiate condizioni economiche, quindi, le accoglieremo da noi, dopo c'è il progetto, dei bambini autistici, e poi, una parte della struttura, sarà adibita, a cosa? Ci faremo affidare, non certamente Gian Paolo Manca, perché a me non ne affideranno nessuno mai, però ci saranno dei specialisti, dei volontari, accoglieremo dei ragazzi, un po' difficili, da, che, verranno assegnati, dai tribunali dei minorenni. Senta, lei ha anche detto, io so che, Dio mi ha già perdonato, ma questo secondo lei basta, per non avere, rimorsi, guardandosi indietro? No, no, guardi, io quando ho detto questo, c'era un motivo, quindi Dio perdona, e di conseguenza, dovresti perdonarti anche tu, ma io non ci riesco. Senta, le faccio un'ultima domanda, e l'ho lasciata per ultima, perché parlavamo delle persone per lei, fondamentali, importanti, e parlando di suo figlio, parlando di Sevano Maestrello, lei si è anche commosso. Adesso vorrei chiudere questa intervista, parlando di Manuela. Prima di entrare in studio, lei ha ricevuto una telefonata, dalla sua compagna di una vita, e le ha detto come se fossi innamorato da qualche giorno, amore mio, ti vedo nella videotelefonata, sei bella come il primo giorno. Chi è per lei, cosa è per lei, cosa ha rappresentato Manuela? mi ha preso Manuela, chi è? La mamma di mio figlio, le pare poco. E nonostante i 36 anni di cacere, è stata sempre a fianco? Sì, sì, sì. Mia moglie è una donna speciale, mi ha dato la sua vita, mi ha dato Armando, non la merito, perché per la nostra famiglia non è stato facile. A lei capita spesso di piangere, di commuoversi? No, no, guardi, accade questo che ogni quale volta che parlo di me, di quello che è accaduto nella mia vita, la rivivo sempre, sempre. Io, quando leggo qualche pagina del libro, ecco qua, la mia fragilità, non mi vergogno, e io so, oggi sono questo, quindi, io ho fatto piangere molti, quindi, se faccio qualche lacrima. E la nostra seconda parte di questo speciale con Gian Paolo Manca termina qui, io ringrazio per essere stato qua con noi, Gian Paolo Manca, grazie, arrivederci. Grazie a lei, grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito, e restate sintonizzati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e su tutti i nostri canali social. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.